Punti pesantissimi, quelli in palio alla futura Sales, sesta giornata di campionato over 35 Champions Cup, si affrontano Real Momoti e Real City, primo minuto di gioco, Eugenio Zillo scende sulla sinistra, il suo tiro cross, filia sorpreso, 1-0 per Momoti, passano due minuti, corner dalla sinistra, palla dentro, Monti, 2-0, deviazione vincente da centro area di rigore, ancora Monti recupera, palla centralmente, il suo siluro da fuori, filia, dice di noi in questo frangente, reagisce Real City con Vistosu, che entra in area da destra, diagonale, rete, 2-1, la squadra di Sinai dunque riduce le distanze, si riporta in partita, il Remo Monti però adesso cerca il gol del 3-1 con Zillo che apre per Corriaz, Corriaz sulla sinistra per Sanna, che non riesce però a inquadrare lo specchio della porta, adesso ho la imposta per Real City, pallone dentro per Rice, Rice area di rigore, palla alla sinistra di Milia, 2-2, calcio di punizione per Real City, se ne occupa Carboni, in porta, Milia dice di no, si rimane sul punteggio di 2-2, adesso Sanna, il suo traversone dalla sinistra, girata di Corriaz, 3-2, che partita, ma reagisce subito Real City, qui bravo e fortunato, Rice la botta e palla alla destra di Milia, siamo sul 3-3 e siamo soltanto al quindicesimo, Corriaz qui contro Boi, vince il contrasto, Corriaz il tiro, Filia dice di no, si rimane ancora in parità, qui Rice, ancora fortunato sul rimpallo, pallone per Vistoso, Vistoso dentro per Vittinio, rete, 4-3 al ventesimo minuto di gioco, ancora Vittinio, punizione, pallone sul fondo, siamo già nella ripresa, Sanna, la punizione, Filia dice di no, palla che rimane l'inzillo, e poi ancora Filia su Monti, bravo e fortunato il numero 77, ed è bravo e fortunato anche Milia, che devia sulla traversa il tiro di Vistinio da fuori, Partita apertissima, Carboni da fuori, Milia, bravissimo, partita adesso, emozionantissima, Porcu, la traversa, dire di no, Real City, il Real Monti ci prova, palla dentro per Monti, e 4-4, proprio quando il Real City sembrava poter trovare il gol del 5-3, Real City che si rituffa in avanti, qui bravo Milia, recupera palla a Reyes, lato destro, in lato di rigore, Reyes che sbaglia tutto, pallone largo per Porcu, che trova la deviazione vincente, incredibile erroraccio della difesa del Monti, che regala così facendo la vittoria al Real City, che vola a 4-12 punti, si avvicina al girone A della seconda fase. Allora, siamo qui con Cristian Carboni, Cristian, grande vittoria quest'oggi contro il Monti, iniziate a sentire il profumo di seriale. No, ci proviamo, ci stiamo tentando, adesso vediamo di continuare come stiamo andando. Ascolta qualche recriminazione, magari per come per adesso è andato il campionato, secondo me forse questa squadra poteva fare qualcosa in più, magari lottare per il titolo invece che te. No, ci dovevamo conoscere un po' di più, un po' di più, però sembra che sta andando bene. Senti, secondo te se la squadra riesce ad entrare in Serie A, quindi tra le prime sei, poi se la puoi giocare per lo scudetto. Senti, ultima domanda, poi ti lascio. Pensate di fare qualche acquisto sul mercato, prima di questa squadra? Siamo già in tanti, penso che rimaniamo a commissare. Almeno il gruppo è compatto, quindi rimaniamo a quello che siamo. Benissimo, grazie Cristian, buon weekend, a presto, ciao, grazie a tutti.